L'aiuta è una fibra tessile ricavata da alcune piante del genere Corcoros, delle famiglie del Marbacea. E' ciò! L'aiuta è altamente igroscopica. Assorbe l'acqua. Di colore bianco, giallognolo, bruno. Le sue fibre sono molto ruvide e tenaci e il filato risulta anch'esso ruvido, rigido e molto resistente. Si può lavorare da sola all'uncinetto o con altri filati.